Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Sigla, Algis. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. L'ho finalmente visto ieri sera e posso finalmente esprimere cosa ne penso. Allora, premetto che mi è piaciuto molto questo film. Non è uno dei migliori film di Christopher Nolan, però comunque è un buon film. Allora, partiamo dalla trama. La trama si fa molto difficile e ogni tanto si fatica un po' a seguirla durante il corso delle due ore e mezza del film. Parla di questo protagonista che non ha un nome, quindi lo chiameremo un protagonista. Infatti, durante il corso della storia dice proprio io sono il protagonista, che è chiamato ad investigare su questa parola che si chiama Tenet, che è anche una tecnologia proveniente dal futuro che può mandare avanti nel tempo chi la usa determinando certe azioni, invertendo il tempo. Quindi, chi va avanti nel tempo andrà inverso, ma siccome si guarderà normalmente sempre dallo stesso punto di vista di chi viene invertito, sembreranno gli altri quelli invertiti. Questo è il presupposto. Poi c'è questo Andrei Sator, che è un russo che nel futuro provocherà la terza guerra mondiale e nel caso di suicidio, perché è anche un uomo molto delicato, ha dei problemi di cuore, in caso di suicidio il mondo morirebbe con lui. Per evitare l'olocausto nucleare, la terza guerra mondiale, bisogna andare ad investigare appunto su questo Andrei Sator, che dal futuro ha scoperto la tecnologia Tenet e c'è di mezzo anche questo portale che si chiama Arlock, da cui escono dei detriti del futuro, quindi dell'età della terza guerra mondiale. Quindi ci sono un po' di casini spionistici e bisogna un pochino investigare, diciamo. La particolarità è che alla fine scopriremo che il personaggio di John David Washington, che è il protagonista, si scoprirà che avrà ordito nel futuro tutto ciò che sta vivendo nel passato, creando questa entità, questa società chiamata Tenet. Dicevo che la trama si fa molto complessa e si intreccia con una delle più grandi ossessioni di Nolan, ovvero il tempo. Il tempo era un elemento fondamentale delle trame di Inception, di Interstellar, di Dunkirk, che non era tanto il tempo come materia stessa, ma il tempo di racconto delle storie che vennero raccontate, e anche in molti altri film del regista londinese. Allora, appunto Nolan è un bravo regista, che riesce a coniugare l'intrattenimento, come ve l'ho già detto, con autorialità e sa rendere delle storie semplici molto più affascinanti e complicate, e in questo film non sfoggia tutte le sue capacità registiche. Cosa vuol dire? Che aveva una mano migliore in film suoi un po' più maturi, come Dunkirk, per esempio, che mi è piaciuto un po' di meno rispetto a Tenet, però dal punto di vista registico era fatto meglio. Anche la storia forse avrebbe dovuto puntare un po' più in basso, perché per esempio nella scena iniziale, nella sequenza dell'attacco all'opera di Kiev, non sono riuscito a capire per quello che molto presto tornerò a vederlo, questo film, per riuscire a capirlo meglio. Ci sono anche delle parti all'interno della trama che non sono molto chiare, non sono molto ben sviluppate, come per esempio il portale di Harlock, che è un elemento fondamentale all'interno della trama, ma viene giusto accennato così. Però ci troviamo di fronte a un montaggio di Jennifer Lame, storica collaboratrice di Noah Baumbach, veramente fenomenale. Fenomenale soprattutto nelle scene action, che sono dirette in una maniera fantastica, e anche molto bello nelle scene in reverse. Ecco, le scene in reverse sono ciò di più affascinante che si può trovare in Tenet, sono molto divertenti, anche per vedere la gente che parla al contrario, insomma un divertimento così, e veramente anche molto ben montate, ben dirette. È un film che accuso anche di una scarsa spiegazione in certe parti, infatti ci sono determinate cose che succedono per motivi abbastanza futili, che vengono spiegati con un boh, perché sì. Non è stata una cosa molto ben accetta, ecco. Anche i personaggi non sono scritti in maniera fantastica, e li vediamo come più che altro delle pedine, che viaggiano all'interno di una storia che fa da vera protagonista. Non si riesce a fare particolarmente, non si riesce ad affezionarsi particolarmente con questi personaggi, e quelli scritti meglio sono quelli di Kenneth Branagh e Elizabeth De Bicchi, perché sono quelli che hanno una background story un po' più costruita, e invece, vabbè, quello di Pattinson ha un ruolo alla fine molto piccolo. Il personaggio di John David Washington è giusto che non abbia un grandissimo passato, perché alla fine non ha neanche un nome, quindi è molto ambiguo come personaggio, e il resto sono dei characters, come si suol dire, che hanno dei ruoli molto piccoli alla fin fine. Il film è ispirato al quadro magico di Sator, una tavola di pietra risalente all'età romana, in cui sono state incise le parole Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, che sono appunto quelle che avete sentito all'inizio del video. Epic! Questo quadro è l'unico artefatto venuto a noi che conosciamo appunto che si può leggere da sinistra verso destra, o da destra verso sinistra, e dall'alto verso il basso, o dal basso verso l'alto. È l'unica cosa palindroma in più direzioni. Le parole del quadro magico di Sator ci sono tutte nel film. Tenet è il titolo. Sator è il nome del cattivo, di Kenneth Branagh, il personaggio di Kenneth Branagh. Poi Arepo è il pittore che disegna il falso quadro di Goya. L'opera è appunto l'opera intesa come missione, oppure anche l'opera di Kiev, dove ha inizio tutta l'avventura. E Rotas è il nome di un'azienda coinvolta all'interno della trama. Comunque è anche un film molto veloce, dal ritmo molto serrato, che non annoia mai, e ha delle scene d'azione, cosa che Nolan non era molto abituato a fare, dirette veramente, con una bravura magistrale. È anche un film con diverse scene memorabili che molto probabilmente faranno parlare il pubblico, faranno discutere il pubblico per tutti questi anni. e è anche uno dei cinque migliori film del 2020 fino a questo punto. È un film che tratta il tempo come non era mai stato trattato, quindi va un po' a ritroso, possiamo dire, però, alla fine, se si ragiona un po', la trama si riesce a capire, non facilmente, ma comunque in modo abbastanza simile fluido, si può dire, perché è una trama molto difficile nel complesso, che però, se alla fine si ragiona, appunto, si capisce. E' molto bello anche, spoiler alert, attenzione, per la sua palindromicità. Infatti il film, a un certo punto, inizia a ripercorrere gli eventi dello stesso, ma, al contrario, aggiungendo nuovi dettagli che rendono la trama un po' più semplice, un po' più costruita da capire. La fine è memorabile, c'è una scena d'azione bellissima, tutta al contrario, con queste esplosioni, al contrario, mischiate da esplosioni vere, montate in maniera magistrale e dirette altrettanto bene. Possiamo dire che è un bel film, però non è un capolavoro, diciamo, non è uno dei migliori film di Nolan, e il voto che posso dare è otto al nove. Comunque, è sicuramente un film da vedere nelle sale, anche perché non è un film da streaming. E' un film che nelle sale dà il meglio del suo meglio, anche per far risorgere il cinema, è da vedere nelle sale. Anche perché, in era di Covid, le sale sono anche un posto molto sicuro. Per esempio, prenotando, prima di scegliere, di avere dei posti vicini, mi hanno chiesto se eravamo dei congiunti, quindi nella stessa famiglia, se no, si ricorre ovviamente alla strategia del posto separato. Poi, durante la proiezione, si devono tenere sempre le mascherine, quindi è un posto molto sicuro anche. E' veramente molto molto bello, anche se, come ho detto prima, ci sono certi errori anche dal punto di vista scientifico, perché tratta anche certe leggi della termodinamica. Ora, io ovviamente non sono un esperto di termodinamica, di entropia, però a quanto pare, leggendo anche altri articoli, dicono che non sono molto attendibili, ecco, queste regole. E' un film però da guardare, comunque anche per vedere come si è voluto Nolan nello stile registico, nella sceneggiatura, insomma, in tutto ciò che fa. E comunque a me il film, nel suo complesso, è piaciuto, l'ho visto fra cinque giorni.